ciao a tutti ragazzi io sono zisa vape benvenuti nel mio canale dove si parla di e liquid sigarette elettroniche e tutto ciò che appartiene al mondo dello svapo oggi dopo 5 6 mesi siamo di nuovo in compagnia di sbrisolona vape per un nuovo episodio di svapo in val padana oggi parleremo di una sua box meccanica la atena della geek vape famosissima l'atena insieme alla pulse insieme alla druga perché rientrano in quelle set di box meccaniche alle melle low cost dove noi abbiamo anche inserito la crea dell'artic dolphin vista di recente in un altro unboxing lascio la parola a lui visto che la box è sua così ce la può descrivere meglio allora cosa dire apriamo la scatola cosa c'è nella scatola è nera e a me ne lo piace quindi già va benissimo così qua all'interno troviamo la box così qua c'è il fire il logo io l'ho preso la pop quindi c'è anche il logo della pop che mi ha detto lui poco fa salutiamo michael della path di via principe amedeo e qua c'è se riuscite a vederlo quello che vedete al contrario ma col cazzo che leggete a terra perché è nero su nero c'è scritto atena più che altro lo possiamo sentire al tatto perché al laser è stata fatta un incisione esatto poi qui abbiamo la tazza nella tazza abbiamo i simboli e i loghi dell'antica grecia visto che atena ovviamente come nome ci riporta all'antica grecia andiamo a vedere la box all'interno semplice box a lamelle una lamella per il positivo una lamella per il negativo poi abbiamo la boccetta super soft di riserva ne abbiamo un altro sempre super soft io avrei fatto una soft e una normale così almeno io potevo scegliere quale utilizzare abbiamo una tazza dove possiamo alloggiare atomizzatori fino a 24 mm non più grandi però fino a 24 ci stanno è molto molto piccola e compatta tra le tre che abbiamo visto questa è la box più piccola perché perché monta batterie 18 6 50 non monta le 2700 come la pulse ma non è nemmeno grossa come questa perché se vi ricordate ha lo spazio preso interno per coprire e proteggere le lamelle questa invece è molto semplice le lamelle li abbiamo a vista sono delle lamelle in argento come funziona questa box allora questa box come tutte le altre intanto soltanto per chi sa rigenerare soltanto per chi conosce la legge di ohm e soltanto per chi conosce quelle formule per capire se la batteria è idonea oppure no per utilizzarla in meccanico insomma dobbiamo avere una conoscenza più vasta per utilizzare il meccanico spingiamo il tasto si sposta la lamella che fa contatto e attiverà direttamente la nostra batteria che porterà l'energia all'atomizzatore e sprigionerà la sua potenza da cosa dipendono i watt dipende dalla resistenza che ci andiamo a montare sopra anche questa box come quelle due precedenti che abbiamo visto a un sistema di sicurezza abbiamo una levetta qui che tirandola su ci va a bloccare la lamella e ci impedisce di arrivare al pin quindi così la box è in sicurezza se invece lo abbassiamo se invece lo abbassiamo abbiamo il nostro bel contatto è inutile dilungarsi su una box alla lamella perché la funzionalità è quella cambia solo il materiale questa è bella perché è d'acciaio quindi in mano sta bene piccolina ha il suo peso quindi sentiamo di avere qualcosa tra le mani ci andiamo a mettere la batteria ricordatevi che la batteria in queste box va sempre positivo in basso negativo in alto stessa cosa che ho detto per la crea essendo box meccaniche tra virgolette entry level per il loro prezzo quindi chi si avvicina al meccanico per la prima volta lo fa queste box non costava nulla mettere un meno e un più così chi è alle prime armi sa com'è la polarità della batteria noi l'andiamo a inserire inseriamo la batteria praticamente prima inseriamo da sotto e poi inseriamo da sopra lo faccio rivedere intanto come l'atena come la pulse per togliere la batteria togliete lo sportellino dietro prendete la batteria intanto questo lo risistemo prima schiacciamo dal basso verso l'alto e facciamo entrare la nostra batteria allora un punto a favore rispetto alla pulse che avendo questo tipo di sistema di messa in sicurezza senza la levetta che si toglie diciamo che abbiamo delle perdite di voltaggio inferiori perché è vero che è comodissimo andare a staccare il circuito per stare tranquilli però anche è vero che tutte queste tutti questi distacchi polo positivo polo negativo che passano da dietro la linguetta che si stacca sono tutte perdite di energia che abbiamo quando andiamo a svapare niente di così grave quando svapiamo però sono sempre delle piccole perdite di energia se la batteria massimo è 3,7 con queste perdite noi stiamo erogando a 3,5 in questa box e questi problemi non li abbiamo è più diretta dopo che l'abbiamo vista da vicino l'andiamo a provare ci mettiamo sopra il suo cune perché l'hai presa proprio per il cune no? esatto il pin pare che sia autoregolante tra l'altro ah sì va bene non l'ho detto scusatemi come in tutte le boxe meccaniche non abbiamo un pin fluttuante ma abbiamo un pin autoregolante che con alcuni atomizzatori va in battuta con altri rimane un po sollevato con il gun va tutto in battuta con il gun va tutto in battuta basta basta c'è arrivato l'ho visto perché adesso giro a vuoto quindi l'abbiamo vista da vicino la boccetta è piena che cosa c'è dentro dentro il brunhilde il brunhilde prima o poi se ci riusciamo facciamo anche la recensione di quello buono eh prego prova tu aspetta che passo un po' l'aria che io non sono come te poi la apro allora a parte che il liquido è buono no quella non la posso mettere qua è 20 ampere in chiaccia scoppia la batteria noi lo facciamo in diretta così questo non lo succede una bella esplosione con una 20 ampere anche perché tu sei un gun che sarà almeno 0,20 minimo 0,20 se non mi sbaglio sono 0,18 quindi 20 ampere di batteria sono pochi dai 0,18 ai 0,22 non mi ricordo allora considerando che la batteria metà carica non è proprio carichissima 3 quarti la spinta la spinta ce la dà è reattiva per essere reattiva è reattiva sì è bella reattiva contatto c'è il tasto ha una corsa non nemmeno molto lungo arriva subito imbattuta sì a differenza delle della pulse dobbiamo schiacciare di più perché ha una corsa più lunga questo una corsa più breve un'ottima box quindi veramente per approcciarsi al meccanico sia per la dimensione che delle trella più piccolina sia che anche questa la sua messa in sicurezza basta fare così la box in sicurezza infatti come potete vedere non eroga niente fare così e la box è attiva ricordare sempre comunque batterie non sbucciate batterie da almeno 25 30 ampere in base all'atomizzatore che montiamo sopra non più piccole perché altrimenti ci andiamo a fare male perché stiamo parlando sempre di meccanico considerando questo ne vale veramente la pena averla e provarla se vogliamo passare da un semi a un meccanico perché ricordo sempre che prima del meccanico è meglio abituarsi col semi così ci prendiamo sicurezza con la rigenerazione vediamo che non facciamo cavolate quando vediamo che va tutto bene col semi meccanico siamo pronti per il meccanico quindi io mi sento di consigliarla anche perché è un'ottima azienda parliamo pur sempre della geek vape per chi è interessato la trova in combo in kit con il suo atomizzatore se invece come nel suo caso che aveva il gun 1.5 serviva semplicemente una box trova anche semplicemente la box questa ripetiamo è stata presa al puff store di mantova quindi la atena la trovate anche nei puff store e niente con questo non ho nient'altro da aggiungere un'ottima box se siete interessati prendetela perché ne vale veramente la pena spero che il video vi sia piaciuto soprattutto che vi sia stato utile se avete domande se avete quesiti se avete se volete dei chiarimenti fateli qui sotto che vi risponderò come al solito condividete e iscrivetevi al canale zisa vape attivando la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video da zisa vape e sbrisolona vape è tutto ci vediamo al prossimo video